Numeri da paura direi, numeri da paura, oltre 30.000 presenze per questo mercatino di Natale dove ci ha visto una grande partecipazione di volontari e lo testimonia questa sera qui la presenza di numerose persone e tutte le associazioni del territorio che hanno collaborato. Credo che abbiamo costruito un indotto, abbiamo creato un indotto non indifferente dove abbiamo riempito bed and breakfast, ristoranti, aziende turistiche, agriturismi ma non solo perché portando gente nel nostro territorio credo che oramai siamo pronti per dire che nel centro Italia siamo l'unica realtà della provincia di Pesore Urbino assieme a Candelare e ad altre realtà che possiamo spendere benissimo. Il marchio dei mercatini di Natale.